Della via Crucis vivente a Brignano che vuole essere un momento che raccoglie tutta la comunità, raccoglie i detenuti del carcere di Eboli, raccoglie gli immigrati, le 12 comunità di immigrati presenti sul territorio. È un momento che ci aiuta a vivere meglio la Pasqua, ci aiuta a intendere quanto il Signore ha sofferto per noi e quanto ha voluto amarci fino a donare la sua vita morendo sulla cruce. È un momento bello, un momento che coinvolge tante realtà presenti sul territorio. I figuranti presenti in questa via Crucis sono quasi 135 figuranti. Ormai sono diventati veterani un po' tutti quanti. Abbiamo provato solo quattro prove, abbiamo fatto quattro prove. Il lavoro però è stato proprio quello di allestire le scene che poi potete vedere.